Ci siamo stancati di mantenere Roma, semplice, quindi siccome ci siamo stancati, sono solo 5 regioni d'Italia che mantengono tutta l'Italia, noi versiamo 21 miliardi di tasse all'anno, diciamo o ci date l'autonomia o ovviamente noi continueremo a fare le nostre battaglie. E questa è la premessa che dovrebbe spingere i parlamentari veneti a cogliere l'occasione unica della riforma della Costituzione in discussione alla Camera per inserire nell'articolo 116 il Veneto come regione statuto speciale. E questa è la richiesta di Zaia, un invito bipartisan. La grande opportunità della storia ci ha servito su un piatto d'argento, i parlamentari veneti da destra e sinistra facciano squadra. Sono convinto che le posizioni di tutti vadano in questa direzione, mi rifiuto di pensare che ci possa essere un parlamentare di sinistra, di destra, di centro, della Lega o di qualche altra coalizione che non sia a favore del fatto che il Veneto possa essere regione a statuto speciale, regione autonoma. E proprio per questo motivo ci hanno opportunità. Oggi è il momento di andare al vedo e vedere se si realizza questo sogno. Il rischio è un rischio grave, visto e considerato che siamo noi che paghiamo gran parte dei conti a tutta Italia. Lasciamo ogni anno 21 miliardi di tasse. Il rischio è quello veramente che i veneti si sentano sbattuti in faccia ancora una volta alla porta. Le reazioni non so quali siano. Il Presidente del Veneto ha intervenuto anche a commento dei fatti sanguinosi di Parigi. Io condivido tutte queste iniziative. Sono stato il primo a fare il telegramma addirittura all'ambasciatore francese. Anche con i whatsapp io sto mandando le matite un po' a tutti. E c'è da dire una cosa, che qui è fondamentale però che tutti prendano distanza da questi criminali, delinquenti assoluti, da questi due, tre, non so quanti siano questi personaggi, e lo si faccia in maniera chiara, fondamentalmente chiara. E per primi lo facciano anche tutti coloro che pensano che professare una fede non sia andare a ammazzare gente dentro nelle redazioni. Quindi anche a tutti gli esponenti dell'Islam c'è un Islam moderato di persone per bene, che non c'entrano nulla con queste persone, che è bene che si facciano sentire.